buongiorno a tutti ragazzi bentornati su infiniti allora ragazzuoli siamo agli sgoccioli nel senso che il server non regge quasi più nulla abbiamo rischiato di perdere tutto dover bloccare la serie è un casino della madonna laggava bestia ora ho fatto un po di prove tipo riuscire a portare le case su un'altra mappa con un programmino che magari poi un giorno vi farò vedere come si usa ma non regge comunque proprio le strutture che sono troppo grosse troppo complicate il server non regge più lagga bestia adesso non sta laggando la mia idea era di arrivare a 100 siamo a 90 puntate questa è la novantunesima faccio tutta la broad magic quello che si riesce a fare tutti i tier vi faccio vedere un po di rituali ancora un paio di cagate e poi di bloccare la serie perché è pericoloso andare avanti nel senso io potrei anche iniziare la towncraft perché di grossa mod mi manca quella da fare però capite che se inizio la towncraft che è lunga complicata da fare poi dopo mi crascio il server e perdo tutto mi girano i coglioni quindi ripeto la mia idea è proprio di arrivare a 100 concludere la serie e iniziare qualche altro pacchetto adesso sto vedendo con gli altri ragazzi del server che pacchetto mettere magari mettiamo la galacticraft e la mechanism che sono un po divertenti da fare e vediamo vabbè comunque detto ciò oggi facciamo il tier 4 quindi abbiamo fatto la volta scorsa gli inboid perché ci servono per fare ma per il momento nulla però dobbiamo fare adesso questa roba qua con questi in pratica dobbiamo fare ok allora prendiamo della stone no questa density stone pa 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 dove sei? ne craftiamo un centinaio e vi faccio vedere cosa si fa con questi cosi qui intanto ne prendiamo in realtà ne basterebbe ok ne prendiamo questi qua praticamente si fa così si mette uno di stone uno di questi e ci da i large questi qua no? ok allora per fare rune no dove l'avevo messi? dove l'avevo messi? l'avevo messi qua dentro pa 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 eccoli qua no questi sono i ritual ritual blood rune eccole qua blood rune allora in pratica dobbiamo fare il solito lavoro quindi tirare via questa roba qua va beh va beh poi lo stacchiamo ok si mettono questi eccoci qua poi questo lo possiamo staccare anche questo poi prendiamo della marble che è la solita poi la modificheremo se avremo tempo voglia e cazzate varie e dobbiamo fare una colonna alta praticamente come questa con la marble ma più una perché ci dobbiamo mettere questi questi qua questi qua quindi 1 2 3 4 più questo 1 2 3 4 più questo e 1 2 3 e 4 più questo qua ok adesso prendiamo il nostro bel divine sigil e vediamo che abbiamo fatto il tier 4 ok vedete current alter tier 4 ora che cosa voglio fare oggi oltre a fare il tier 4 voglio fare un po' di potenziamenti quindi se noi facciamo così vedete ci sono questi qua allora intanto io vorrei fare tipo run of sacrifice che si fa in questo modo ne possiamo fare un bel po' allora intanto facciamo di stone ne facciamo anche un migliaio perché ci serve allora facciamo così mettiamo su craft mettiamo stone e facciamo anche un 2000 start ok dopodiché run of sacrifice abbiamo detto che si fa così mettiamo in mezzo e ne prendiamo io farei run of sacrifice farei il giro qua intorno no questa cosa lascerei così così quasi no vabbè però adesso vi faccio perché voglio farvi vedere cosa serve run of sacrifice run of sacrifice in pratica è ok le mettiamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 in pratica in pratica se noi adesso riattiviamo qua che io ho spento un attimo ok in pratica run of sacrifice ci fa guadagnare un trick che poi adesso ve lo faccio vedere ve lo spiego molto velocemente praticamente ci fa guadagnare più sangue ok dalla morte di 1 ci fa guadagnare un botto di sangue in più ok quindi se prima si guadagnava tot adesso si guadagna molto di più più ne mettiamo e più si guadagna chiaro il concetto ok quindi se io adesso vado qua siamo a 0 gli do un colpo e siamo a 700 quasi il doppio di quello che guadagnavamo prima ok quindi molto comodo per quanto riguarda il il sangue poi altra runa speed rune eccolo qua speed rune che è una stronzata da fare ci serve solo dello zucchero ma al massimo lo facciamo con la table ostia adesso questi rompono i coglioni allora vado su a spegnere facciamo così tac e via così non rompono più le balle tanto le tavolette adesso ce l'abbiamo l'emboard ce l'abbiamo tu dove sei che mi hai menato boh vabbè comunque dicevamo ci serve lo sugar che non abbiamo esattamente quindi prendiamo la nostra bella transmutation table e vediamo se abbiamo lo zucchero sugar non abbiamo lo zucchero ma poi abbiamo lo zucchero di canna abbiamo questa quindi facciamo così 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 ok quindi sugar perché se ci mettiamo anche a fare lo zucchero ragazzi possiamo prendere spararci un colpo in testa ok quindi capacitor dove sei no ho detto lo speed ah perché poi c'è anche l'acceleration però l'acceleration si fa con gli r ok non si può fare adesso quindi facciamo gli speed gli speed servono che è successo non ho più non ho più non ho più queste qua facciamole non è finito l'orb non è finito l'orb non è finito l'orb ok prendiamo per il momento queste 13 qua le mettiamo ne mettiamo ne so 1,2,3,4,5 4,5 6,7,8,9,10 ne mettiamo 10 di queste 3,4,5 ok perfetto queste servono a fare molto più velocemente gli oggetti ok quindi semplicemente aumentano la velocità di crafting degli oggetti nulla di particolare vedete che sono molto più veloci da craftare poi cos'è che abbiamo abbiamo il capacitor allora gli augmente capacitor si fanno con gli inbued ok invece il superior capacitor si fanno sempre con gli eternal più gli inbued più gli augmente va bene noi facciamo gli augmente per il momento quindi andiamo qui facciamo così e facciamo che ci servono dei secchi tutto 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 tac e tac così così bam bam il nostro bel orbo in mezzo e bam e ne facciamo tutto ok e quindi le mettiamo per il momento al posto di queste quindi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 e 5 queste in pratica se vedete ci aumentano vedete che siamo già arrivati capaciti 20.000 eravamo a 10.000 aumenta la capacità del del coso qua devo staccare tutto poi lo sistemerò 2 3 4 e 5 ok praticamente cosa abbiamo fatto semplicemente abbiamo spostato tutta la nostra cioè abbiamo tolto tutte le nostre rune da qua e l'abbiamo sostituito con queste qua che sono capacitor speed o cazzate varie e e basta ad esempio rune sacrifice io ne farei tipo ancora no anzi ne abbiamo ancora quindi le possiamo anche fare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perfetto possiamo fare due linee ma che bello 1 2 3 4 5 6 7 7 8 e 9 andiamo anche dall'altra parte lo facciamo un po' simmetrico così è un po' più caruccio e 9 bam bam ok e anche questa fatta poi cosa abbiamo ancora 4 di queste e 11 del sacrificio quindi io del capacitor quindi io farei le sacrificio le lasciamo lì così 1 2 3 4 sacrificio l'acceleration farei altre capacitor così ci aumenta ancora di più allora facciamo altre capacitor altre di queste qua tac mi mancano quindi i secchi ok ok e questa e via perfetto ok allora vediamo il nostro altare come siamo messi vediamo un po' dov'è questa e se clicchiamo vedete siamo a 58.000 di capacità tier 4 come al solito e alla stragrande direi quindi l'unima cosa che ci manca da fare per questa puntata che farò breve ma concise è il calcolo di questo qua perché? perché adesso noi possiamo fare le demoni un nuovo output lo portiamo qua questo lo tiriamo su così facciamo un nuovo output messo così e come al solito gli diciamo inventario com'è che era aspetto inventario ok ah si giusto 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 deve mandarla dentro qua ma con in whitelist la demonic quindi questa qua la demonic slate e gli mettiamo specific amount 200 esattamente come quelle altre ok quindi quando sarà a 200 di questa si fermerà e via dicendo e colleghiamo questa con questa e e e e vediamo un po' anzi io prima farei così così vi faccio vedere la demonic stacchiamo un attimo questo qua ok così ho sbagliato ok gli diamo un po' di sangue vedete una adesso adesso dovrebbe fare la reinforced adesso dovrebbe fare la imbued eccolo qua la imbued e adesso richiede un botto di sangue e poi tra poco dovrebbe trasformarsi nella rischio di morire nella demonica dai carica un po' di sangue no richiede veramente tanto di sangue intanto nella prossima puntata faremo il TR5 allora ma quanto sangue richiede per la demonic 15.000 vacca puttana eccola qua oh demonic fatta ok perfetto demonic adesso la prossima è l'ultima col TR5 che si fa l'Eternal ora 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 basta direi che siamo a posto io adesso riattacco tutto faccio ripartire faremo anche un bel po' di demonic perché poi arriveremo ad avere l'Eternal l'Eternal o Eretel come cazzo si chiamano comunque sia l'Eight questa qua l'Etherial ok arriveremo ad avere l'Ether che però per fare l'Ether ci serve il Tier 5 e 30.000 di sangue quindi ora mi metto qua farmo un po' di demonic farmo ancora un po' di capacitor farmo ancora un po' di sacrifice e mi preparo e nella prossima puntata faremo il Tier 5 va bene? quindi direi che per oggi è tutto grazie a tutti ciao ciao